molto precisa è di quella di soddisfare le esigenze dei suoi consumatori e dei consumatori finali con l'obiettivo di essere sempre leader a livello di innovazione. Da sempre la nostra azienda si è affacciata ai mercati mondiali cercando di diffondere i nostri manchi e i nostri valori. Nell'ultimo quadrierno gli investimenti in comunicazioni, in scelte e le venti sono aumentati vedendoci presenti in diversi continenti e riuscendo ad aprire mercati di grandi potenzialità. Abbiamo un solo obiettivo, ogni volta che una persona beve un caffè, un cappuccino o consuma da una delle nostre macchine deve vivere un'esperienza di soddisfazione. Questo obiettivo si traduce in lavoro, impegno e prodotti che facciano la differenza. Bianchi Belli, il gusto per l'innovazione. 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 Grazie a tutti. 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 Mi chiamo Carolina Verniano. Da oltre dieci anni lavoro nell'azienda di famiglia guidata da mio papà Franco e da mio zio Carlo. Insieme a mio fratello Enrico e mio cugino Pietro rappresento la quarta generazione. Caffè Verniano è la più antica torrefazione d'Italia. Da oltre 130 anni lavoriamo per esprimere al meglio il saper fare del nostro paese ed esportiamo l'autentico espresso italiano in tutto il mondo. Appartenere ad una tradizione di famiglia è un dono prezioso. Sono cresciuta respirando ogni giorno l'aroma dei chicchi appena tostati e ho scelto di raccogliere l'eredità dei miei antenati per portare avanti il sogno iniziato da mio bisnonno Domenico nel 1882. E' un'emozione sempre unica pensare che il profumo di quelle miscele parte ancora da queste colline e arriva in tutto il mondo con la stessa cura e la stessa passione di un tempo. A pochi passi da questo luogo nel 1882 il nonno Domenico condò la prima torrefazione di drogheria. Io ho un ricordo molto vivido di questo posto perché mio padre quando eravamo piccolini si portava tutte le domeniche a trovare le zie che conducevano l'attività. Noi venivamo molto volentieri perché le zie ci regalavano le caramelle quindi facevamo scorte per tutta la settimana. La cosa che mi ha sempre impressionato è stata la bellezza di questo posto tutto in legno, tirato lucido, ordinatissimo con dei profumi che erano meravigliosi la candela, i chiodi di garofano ma il profumo del caffè appena tostato era quello che veramente indebriava e forse è questo profumo che ci ha portato ad amare questo prodotto e iniziare a sviluppare questa attività meravigliosa. Quello che facciamo da anni è raccontare il rito dell'espresso valorizzando ogni dettaglio nel rispetto della materia prima. Abbiamo scelto di preservare la nostra artigianalità mantenendo il processo di tostatura lenta e tradizionale delle singole origini. Pensiamo sia il modo migliore per esaltarne l'aroma e portarlo in tazza. Fare il caffè è molto più di una semplice produzione industriale è un patrimonio che va protetto, tramandato e custodito. Da volte a 40 anni compro caffè e compro il caffè non è una cosa semplice. Tutti gli anni i tipi di caffè cambiano, cambiano secondo il tempo secondo le piogge, secondo il clima lo farei per tutta la vita. Ancora altri 40. Questo è il luogo dell'azienda che preferisco. È qui che tutto è inizio dove il caffè ancora verde è pronto per essere tostato e miscelato. Ho deciso di seguire il mestiere di mio padre perché penso che sia un'arte affascinante selezionare le origini e definire la tostatura per ottenere il meglio da ogni chicco. Le nostre miscele sono ricette che portano in una tazzina profumi e aromi di tutto il mondo. Credo che il modo migliore di fare impresa oggi sia quello di non sentirsi mai arrivati. Ogni giorno è un'opportunità per sperimentare e intraprendere nuove sfide. Dal 1882 portiamo innovazione in un mondo di tradizione. La combinazione è perfetta per continuare a crescere e anticipare il mercato. Chi sceglie il nostro caffè sceglie un prodotto che arriva dal passato e guarda al futuro. Che si tratti di mocha, di capsula o di espresso le nostre miscele sono sempre frutto di una selezione accurata. Un impegno che abbiamo preso nei confronti dei consumatori e che rispettiamo quotidianamente. Il vero espresso italiano non potrebbe esistere senza le sapienti mani dei nostri baristi. Quando penso agli oltre 6.000 locali che serviamo in Italia penso ad una rete di grandi professionisti che ogni giorno porta in tazza un concentrato di cultura e si impegna a valorizzare al meglio le nostre miscele. Essere un barista caffè vergnano significa prima di tutto conoscere la nostra storia, vivere l'azienda ed entrare in contatto con chi lavora qui ogni giorno. Tutto parte dalle persone, dalla condivisione di cultura e di conoscenza. È quello che è la base della nostra Accademia Verniano, dove ogni giorno formiamo baristi che arrivano da ogni parte del mondo per imparare i segreti del nostro caffè. Con la nostra insegna Caffè Verniano 1882 abbiamo creato una rete di oltre 130 caffetterie in tutto il mondo, la miglior vetrina che si possa desiderare. Ogni volta che ci poniamo degli obiettivi a breve o a lungo termine pensiamo sempre in grande. È il motore della nostra azienda, quello che ci ha permesso di vincere sfide che molti pensavano impossibili e di arrivare in oltre 90 paesi nel mondo. Così siamo entrati nelle case, spero nel cuore, di milioni di persone. Credo che nella capacità di sognare risieda la forza di Caffè Verniano e credo che la vera sfida sia trovare ogni giorno la chiave migliore per condividere i nostri sogni, racchiuderli in una tazzina e raccontarli al mondo, espresso dopo espresso. e revisione a cura di QTSS Grazie a tutti. 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 e a tutti. e a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. e 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e 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 a tutti. host 2017. e a tutti. 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 ciao. e a tutti. 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 e tutti. e a tutti. e a tutti. e a tutti. e tutti. e tutti. e tutti. e tutti. e a 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 tutti. e tutti. e tutti. e tutti. e tutti. e a tutti. e 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 tutti. e... e tutti. 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 e... e tutti. e tutti. e tutti. e... e tutti. e... e tutti. 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 con la precis. e tutti. 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 e... e tutti. 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 noi. e tutti. e tutti. e tutti. e... 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 Diva. se... ... mtn company. Grazie a tutti. con la promozione di Lamberti Food e di De Luca Attrezzatore per la Ristorazione e per quanto riguarda la M&N Company siamo noi segreteria organizzativa e ci occupiamo dell'intera comunicazione dell'evento. Michele, una manifestazione che cresce anno dopo anno, un'evoluzione continua che giunta alla quinta edizione ha visto anche una grossa partecipazione di pubblico che è venuto qui a seguire i piccoli workshop, è venuta a trovare dei fornitori abituali e alcuni sono venuti proprio a visitare questo evento per cercare di comprendere che cosa fosse in realtà. Voi siete abbastanza contenti, suppongo. Il risultato è stato molto più che soddisfacente. Abbiamo avuto più di 500 registrazioni, tutti di operatori del settore Oreca, quindi tutto pubblico in target. Registrazioni che sono partite sia online sul web www.orecost.it ma anche molte altre persone, sempre in target, che sono giunti qui direttamente al Grand Hotel Europa Palace per assistere alla manifestazione. Il programma, come anticipavi Fabio, ogni anno si arricchisce di nuovi appuntamenti. Quest'anno abbiamo avuto anche una contemporaneità tra diverse situazioni. Abbiamo avuto dei convegni con ospite Gaetano Barbuto per quanto riguarda il mondo breakfast. Oggi abbiamo avuto anche il mondo degli chef a confronto con Luigi Vitiello e Montone, il presidente dell'area sud della Federazione Italiana Cuochi, e in contemporanea, dicevo, degli show cooking, quindi degli chef di cucina che hanno fatto proprio delle dimostrazioni live integrando attrezzature professionali per la ristorazione a piatti e ricette che sono state poi degustate dal pubblico in sala. Quali le sorprese che riuscirete a riservarci per l'edizione 2019? Dicevamo prima, dietro le quinte, che quest'anno la parola che contraddistingue e contraddistingue questa quinta edizione è WOW. WOW perché si parlava di breakfast WOW, quindi come alletare gli ospiti che fanno, diciamo, soggiorno nelle prese delle strutture ricettive. Ma WOW è proprio l'aggettivo meglio che descrive questa quinta edizione. Partendo, diciamo, dalla prima giornata di ieri con la neve, non si vedeva neve sul Sorrento da più di 30 anni, siamo arrivati con ore costa a Sorrento e abbiamo portato, possiamo dire, la neve. Quindi, diciamo, dopo questo effetto WOW così forte di quest'anno, è una bella sfida, quindi superare le attese anche per l'edizione 2019. Noi ci saremo, amici, per ora è tutto qui da Orecos. Grazie Michele Lanzetto. Grazie a te Fabio. E noi, nel frattempo, continuiamo con altri servizi, sempre su orecatv.it Grazie a te Fabio. Grazie a te Fabio. Grazie a te Fabio. Grazie a tutti 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 Allora Grazie a tutti 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 E a tutti Grazie a tutti E a tutti Grazie a tutti E a tutti E a tutti Grazie a tutti E a tutti Grazie 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 a tutti E a tutti E a tutti Grazie 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 a tutti E a tutti Buongiorno Grazie a tutti E a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti E a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti E a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti E a tutti E a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti E 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 a tutti standard di E a tutti 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 E su E a tutti 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 E con E a tutti 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 E su E a tutti 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 E su E a tutti 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 E se E a tutti E a tutti E su E a tutti E su E a tutti E a tutti E a tutti E su E su E a tutti E su E a tutti 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 E su E a tutti E a tutti E a tutti E tutti E a tutti E a tutti E a tutti E su E a tutti 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 E su E a tutti 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 E su E a tutti 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 E su E su E su E a tutti E su E su E su E su E su E a tutti E su 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 E su